Musica Questa è una fiera molto interessante, soprattutto perché mette al centro il fumetto senza fronzo. La prima volta che partecipo con un mio tavolo, è una fiera bellissima, speriamo che continui a crescere. Non so neanche da dove inizia a vedere le cose, quindi non so, aspetto un sacco di cose belle da vedere. Musica Spero di accaparrarmi altri quei disegni a chi andrò a trovare io e di non spendere troppi soldi. Ma mi aspetto tanti autori interessanti, una self-care importante e di comprare tante cose belle e novità che non trovo da nessun'altra parte normalmente a Roma. Passate a trovarci all'ARP, perché è una figata pazzesca! Musica Musica Musica